Ho visto l'angolo, non ho più neanche la copertura sull'angolo, anche il mio è indecente. Ma sai che Oscar mi spruzza ancora in casa? Perché spruzzano anche quando si sterilizzano? Sì, ma poi quando vuoi uscire, io dico no, adesso basta, stai dentro. Io c'avevo quello rosso che mi spruzzano, non è che perché hai sterilizzato, il stesso modo se l'hai sterilizzato da adulto. Ecco che è andato, sta qua a far pulizia anche lei. Per dirti l'altro che ha mia mamma che è un gattino nero, ma ha un anno ormai, però non è per niente affettuoso, ma lui poverino, l'ha tolto la mamma che era grande di più. Tigrillo, tigrillo, sandokan lato. Ah, sandokan, si chiama. Ma come l'hai chiamato? Alfio. Il nome di Avone. Perché l'altro si chiama Alfio. L'hai visto? Adesso Filippo ha detto, la prossima gattina che prendi, le ha detto a mia mamma, dovresti chiamarla. Guarda quella lingua fuori. Ascolta, l'hai visto il servizio di Giacomo?